Ehm, no, un attimo, non vedo ancora niente io, un attimo. No, c'è uno dietro, c'è uno dietro, c'è uno dietro. Cos'è? It was at this moment that he knew he fucked up. No, c'è un T29 qui, p***io. Ehm, a destra, sta salendo. Ce ne sanno due, ce ne sanno due, c'è... Li vedo, li vedo. A presto! Grazie a tutti.